Lo stabilimento Ortogel di Caltagirone, noto per i suoi prodotti di trasformazione di agrumi, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Catania. Inoltre 17 persone sono indagate per il reato di traffico di rifiuti e smaltimento di illecito di circa 75.000 tonnellate di pastazzo, costituito dai residui dell'estrazione del succo di arance di limoni che contengono bucce, polpa e semi. Il motivo dell'indagine riguarda un bacino artificiale utilizzato come discarica abusiva di rifiuti provenienti dalla lavorazione degli agrumi ed un invaso artificiale nel quale confluivano il percolato dei rifiuti e le feci di animali provenienti dalle stalle vicine. Sembra che il pastazzo veniva ceduto come mangime animale a numerosi allevatori, ma in molti casi è emerso che nei terreni dove venivano scaricati rifiuti non vi era alcun allevamento. Inoltre ad alcuni allevatori raggiunti da avvisi di garanzia è stato contestato il reato di gestione illecita di rifiuti prodotti dalla OrtoGel per averli depositati in maniera incontrollata e senza autorizzazione alcuna su terreni ubicati nell'alvio del fiume Gornalunga nel territorio del comune di Ramacca. Secondo gli inquirenti, la OrtoGel tra il 2009 e il 2012 ha ottenuto un ingiusto profitto di circa 3 milioni di euro derivanti dai minori oneri sostenuti per il mancato smaltimento o recupero dei rifiuti. La OrtoGel era stata già oggetto di un sequestro il 14 ottobre 2010, indagine conclusa con il dissequestro al fine di non penalizzare l'attività produttiva, anche se la Procura della Repubblica aveva dato una serie di prescrizioni atte a ripristinare le condizioni di messa a norma.